Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del topolino numero 3451. Eccolo qui, fresco di edicola, il secondo topolino dell'anno 2022, con questa bella copertina di Alessandro Perina, ai colori abbiamo Valeria Turati, quindi la copia Perina-Turati, confezionano questa bella copertina, sicuramente più bella della precedente per quanto mi riguarda, con questi personaggi, insomma, Zevo Verone che è preso d'assalto da Brigitta e Amelia che comporranno una strana coppia per questo primo episodio di Silvia Ziche che ha messo a punto questa storia come soggetto sceneggiatura e disegni di questo primo episodio della storia dedicata appunto a Brigitta e Amelia che insideranno Zevo Verone, Brigitta e Amelia e l'Alleanza disastrosa, quindi la cover story di questa settimana è questa, con loro due che braccano il deposito, quindi vediamo tutte le monete di Zevo Verone, bella la scritta azzurra topolino con il rilevo bianco, la scritta bianca Disney, il gioco di colori di Valeria Turati sul disegno di Alessandro Perina che devo dire fa un ottimo lavoro e sinceramente è una bellissima copertina, in quarta delle copertine vediamo i ciondoli, i gadget che ci sono da un bel por mai su topolino ma che a me non interessano, per cui copertina, scusate un gioco di parole con Perina, copertina senz'altro promossa e per quanto mi riguarda più bella rispetto a quella del 3450, per questo 3451. Apriamo il settimanale e vediamo subito che prossimamente ci sarà una storia di Top Stories, Xclum o Clam, c'è che era a tira a Paperopoli la settimana di Silvia Ziche con Paperina che vuole giocare un brutto scherzo a Paperino con le palle di neve, Paperino ovviamente che ozzia sul divano, Paperina che dice che gusto c'è a fare a palla di neve all'aperto, dove tutti sono ben incappottati e coperti, c'è, cari amici di Topolino, ho scoperto insomma che Alex Bertani, il direttore, è in vacanza, per cui settimana scorsa aveva scritto un altro membro della redazione, questa volta è il turno di Gaia Arrighini, quindi una donna, visto che si parla qui soprattutto nella cover story, nella storia principale di due donne, due papere, quindi c'è Gaia Arrighini che ci parla insomma del fatto che Natale ormai è passato, questo è già il secondo numero dell'anno, è più o meno quello che vedremo in questo numero di Topolino. Allora, si parte subito con la storia, appunto, Brigitta, Amelia e l'Aleanza disastrosa, l'episodio 1, storia di seni di Silvia Ziche, una storia che mi è piaciuta tantissimo ragazzi, la storia più bella del settimanale per quanto mi riguarda, praticamente seppur per motivi diversi, Brigitta e Amelia sono accomunate dal fatto di essere spesso maltrattate da Paperone, la storia inizia così, insomma, con Brigitta che cerca di chiamare al telefono Zio Paperone per dissuaderlo, gli prepara tanti manicaretti, tante cose da mangiare, però Zio Paperone come al solito è un approfittatore, ne approfitta e visto che ha una riunione con altri miliardari, prende il cibo e si disfa di Brigitta cacciandola di casa, così Brigitta incontrerà Amelia e insieme si metteranno d'accordo e formeranno una strana alleanza per vendicarsi di Paperone che tratta male entrambe, tratta male Brigitta, che Brigitta come ben sappiamo da sempre corteggia Zio Paperone, mentre Amelia vuole la sua moneta numero 1, insieme formeranno una strana alleanza come detto che metterà un po' di saggio Zio Paperone in questa prima parte, devo dire, sia storia che disegni di Silvia Ziche, promossa al 100%, per questo episodio 1 che mi è piaciuto tantissimo, vedremo come continuerà nel prossimo numero, però posso dirvi che davvero mi è piaciuta questa storia, nella storia sono implicate anche i Bassotti, insomma, una bella storia, fatemi sapere poi nei commenti se vi è piaciuta, perché a me sinceramente è stata la storia, per me è la storia migliore di questo numero 3451. Soliti magazine, cioè solite cose che vediamo nel magazine, qui si parla di carote da brividi, carote ghiacciate, è una cosa sempre simpatica, onda su onda, secondo episodio della saga del viaggio del Pippontichi in mezzo al nulla di Sergio Cabella con i disegni di supervisione colori di Ivan Bigarella, il primo episodio mi era abbastanza piaciuto, così come anche il secondo, si torna a respirare l'aria salmastra a bordo della zattera Pippontichi, partita dalle coste peruviane e diretta in Polinesia, prosegue il viaggio del Pippontichi con i vari personaggi in questa storia che, devo dire, che mi sta piacendo, è una storia d'avventura alla fine, ci sta, quelle storie che su Topolino si vedono spesso, con i nostri personaggi, in questo caso di Topolina, quindi Pippo, Gancio, Clarabella e anche Topolino ovviamente, che intraprendono questo viaggio, anzi scusate Orazio, non Clarabella, intraprendono questo viaggio e anche il secondo episodio, devo dire che mi è piaciuto abbastanza, poi c'è l'agenda e poi c'è una storia, una storia di quelle riempitive che mi è piaciuta molto, ho scoperto che è una storia di realtà del 2008, doveva essere una storia danese, qui, qua il disaccordo musicale, una storia di Thomas Schröder con i disegni di Marco Rota, io me ne sono accorto subito che i disegni erano comunque una storia danese, perché queste sono quelle che appaiono anche sul manuale delle Giovani Marmotte, una storia di poche pagine, ma molto carina, perché praticamente qui, nella storia del 2008, c'erano ancora i lettori di MP3 che andavano fortissimo, i nipotini qui, qua, qua hanno a che fare con un regalo che sono praticamente una bella sorpresa che le arriva a casa questo nuovo lettore di MP3, solo che è soltanto uno, loro sono tre, Paperino non sa come deve mettere d'accordo i tre nipotini, ne passeranno un po', insomma, per metterli d'accordo con la musica che devono ascoltare, corta ma simpatica questa storia sul lettore di MP3. Poi c'è il terzo e penultimo episodio di Cronache degli Antichi Regni, la saga dà un'idea di Alex Bertani, soggetto a sceneggiatura di Alessandro Sisti e disegni e supervisioni dei colori di Francesco Di Polito, nel fuoco e nel ghiaccio, questa è una saga che a me non sta piacendo, benché apprezzi moltissimo i disegni e i colori, anche le idee messe in mezzo a questa storia, ma a me il fantasy, ragazzi, come ben sapete, non piace, ogni qualvolta capitano che, capita sul magazine, sul settimanale di Topolino ci sono storie fantasy, ho sempre difficoltà a leggerle, anche se questa comunque è una storia ben fatta, ma non mi attira. E invece mi è piaciuta l'ultima storia di questo numero di Topolino, che è Zio Paperone la minaccia alla Calisota Valley, con una storia di Vitaliano, se non sbaglio, sì, ora vi faccio vedere dove inizia, la storia di Fausto Vitaliano con i disegni di Graziano Barbaro. Praticamente qui in questa storia c'è Zio Paperone, è ambientata a Paperopoli, ma sul cucuzzolo della montagna ci sarà anche Dinamite Blah, che avrà a che fare con, insomma, c'è una cittadella high-tech che si è creata a Paperopoli, si tratta della Calisota Valley, dove i migliori menti informatiche di tutta la regione esplorano le nuove frontiere della tecnologia e due miliardari di nostra conoscenza si daranno come sempre battaglia, quindi ci saranno Zio Paperone e Rockerdac, ma in mezzo a questa storia ho apprezzato molto che Vitaliano ha inserito Dinamite Blah, che essendo un montanaro, insomma, un contadino che deve far crescere le sue melanzane ha a che fare con persone che li vogliono far, come dire, usare di più la tecnologia, ma lui non è moderno, è appunto un montanaro, una persona sempre molto anche nervosa, lievemente nervosa, come dice lui, cercheranno, insomma, di, questa cittadella high-tech della Calisota Valley cercherà a tutte, insomma, cercherà di far aprire la tecnologia moderna tutta la città di Paperopoli, compreso anche Dinamite Blah e soprattutto Zio Paperone e Rockerdac si daranno battaglia per chi, insomma, riesce ad essere migliore tra i due. La storia l'ho apprezzata molto, devo dire che Vitaliano ha fatto un buon lavoro, così come Barbaro ha i disegni, una storia simpatica, davvero simpatica, mai alla mezzo al secondo posto tra le storie più belle, insomma, di questo albo. Ci sono i disegni di Io Paperino, le battute, insomma, le barzellette, come al solito, simpatiche, quelle le avevamo già viste, insomma, uno come lui, Corrado Mastantuono, ci parla della prossima storia, la cover story che ci sarà sul prossimo numero, dove ci saranno Paperino, Bumbunghigno e il fratello Manipolatore sul 3452, come al solito, gli autori, l'autore delle prossime storie qui si presenta e ci parla di quello che poi leggeremo. I ciondoli dello Zodiaco, gadget che io non sto facendo, questa settimana ne dicono tutti questi fumetti, tra cui anche Invernissimo, il Club dei Supereroi, Paperinic, Zevo Perone, Paperino in Team, i grandi classici Disney, e il prossimo numero, 3452, con questa bellissima copertina, con Topolino in primo piano, Superstoria e fumetti, abbiamo Paperino, Bumbunghigno e il fratello Manipolatore, l'episodio 2 di Brigitta, Amelia e l'Alleanza di Sastrosa, il terzo e ultimo episodio del Viaggio alle Pipo Antichi, Isole all'Orizzonte, Torna Calisota Social Media con i bassotti e il colpo da mille like, e il quarto e ultimo episodio, finalmente direi, perché non mi sta piacendo, di Cronica delle Antichi Renni, capitolo quarto, le chiavi dei clan. Si conclude l'albo, si conclude il settimanale con la pagina dedicata ai nuovi mestieri, prevenzione e infortuni di Alessio Coppola, con gancio protagonista. Niente ragazzi, allora, questo numero, devo dire che mi ha soddisfatto, soprattutto anche la copertina da parte di Perina, con i colori di Valeria Turati, le storie in generale mi sono piaciute, ho preferito molto Brigitta, Amelia e l'Alleanza di Sastrosa, questo episodio 1 mi è piaciuto tanto, così come Zeo Paverone ha la minaccia alla Calisota Valley e la storia danese, qui, qua e il disaccordo musicale. Un po' meno, in mezzo al nulla, il Viaggio alle Pipo Antichi, l'episodio 2, anche se è carina, e poi proseguono le due saghe, sia del Viaggio alle Pipo Antichi che Cronica delle Antichi Renni, che si concluderanno con il prossimo numero di Topolino, sul 3452. In definitiva ragazzi, cosa posso dirvi? Come al solito, Topolino si conferma una lettura molto rilassante, molto tranquilla e carina, io sono contento di portare avanti, anche in questo 2022, settimanalmente, il magazine di Topolino, che è sempre una buona lettura, fatemi sapere nei commenti, se vi è piaciuta la copertina, se vi sono piaciute le storie, e cosa ne pensate di questo numero, e se state facendo i gadget che io non sto facendo, come al solito, però devo dire che questo è stato comunque un buon numero di Topolino, secondo me anche superiore al precedente, per cui questo 3451 è un Topolino promosso. Io, come al solito, vi ringrazio per aver visto il video, e ovviamente vi ringrazio per il supporto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! Grazie a tutti.